Prima vittoria casalinga della stagione per il Baranello che supera 2 a 0 il Morcone nel match d'anticipo della quarta giornata. Primo tempo a reti bianche nella ripresa. La squadra di Viglione realizza due reti e convince anche con una serie di occasioni. Andiamo con la cronaca all'undicesimo. Prima chance per i locali. 1-2 di Paolo Cappelletti. Il primo libera il sinistro. Conclusione lenta. Fiore para a terra. Un minuto dopo sbaglia in uscita la squadra di casa. Lombardi dalla distanza. Conclusione secca. Manocchio si oppone. Passa un po' di tempo. Dobbiamo arrivare al 26esimo. Baranello sulla destra. Cappelletti dal fondo. Cross deviato da Franco con il braccio secondo i locali. Mentre per il signor Di Domenico di Sernia l'azione è regolare. 37esimo. Grande azione di Bellomo. Caparbio ruba palla a Maiorano. Dribbling sterzata. Conclusione bassa. Fiore salva tutto. Poi il sinistro schiacciato da parte di Ruggero. Al 46esimo nel primo minuto di recupero del primo tempo episodio da Moviola. Cross di Venditti. Franco nel tentativo di liberare. Tocca il pallone con il braccio. Un intervento scomposto. Ma ancora per il signor Di Domenico non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nella ripresa al primo minuto da calcio di punizione va Ruggero. Fiore è attento e allunga la sfera. Al 19esimo. Grande occasione per il Morcone. Vignone trova Mastro Giacomo tutto solo. Piatone però prevedibile. Manocchio riesce a chiudere. Gol fallito. Gol subito. È la legge del calcio. Arriviamo al 28esimo. Il Baranello va in vantaggio. Cappelletti per Ruggero. Finta. Sinistro improvviso. Che fulmina Fiore. 1-0. Davvero gran gol del crasse 2004 di mister Lorenzo Viglione. Che porta avanti i suoi da questo momento. Tante occasioni per il Baranello. Alla mezz'ora. Azione manovrata. Niro per Di Paolo. Sinistro teso. Fiore riesce a rispondere. Due minuti dopo arriva il raddoppio. Stessa azione. Questa volta è Venditti ad assistere Di Paolo. che calcia sul secondo palo e realizza il gol del 2-0. La gara è in ghiaccio. Al 35esimo De Simone. Lancio profondo per Ruggero. Grandestro. Fiore riesce a superarsi. Al 41esimo fa Capolino il Morcone. Cross basso dalla sinistra. Traorei va in anticipo. Manocchio riesce a salvare. Al 42esimo potrebbe esserci gloria anche per Venditti. imbeccato perfettamente da Niro. Ma l'attaccante si fa chiudere da Fiore. Ottima vittoria per il Baranello che sale a 8 punti in classifica. Domenica prossima la squadra di mister Lorenzo Viglione sarà ospite della Tilia Samnium.